nel 509 avanti cristo roma divenne una repubblica l'ultimo re di roma per cui nel superbo viene cacciato dai romani perché troppo prepotente nasce anche una leggenda la leggenda di lucrezia sui motivi per cui i romani si ribellano contro l'ultimo re di roma lucrezia una donna sposata viene violentata dal figlio del re tarquinio il superbo il marito ritornato a casa vede la moglie in lacrime che gli confessa il fatto che è stata violentata e per questo motivo si ucciderà dicendo perché nessuna donna romana dopo quello che mi è successo rimanga impunita a Grazie a tutti. Ciao, al prossimo video. Vi aspetto.